andiamo Emma buongiorno andiamo a scuola oggi è giovedì Emma a scuola brandoterapia come ogni giorno Emma che fai ti guardi nello specchio tante cose da fare vero? vamos! allora buon pomeriggio vedi che mi fai tagliare sempre tutte le parti del video non uscire spostati allora siccome io sono una ragazza servizievole sono andando ad aiutare mia madre a fare il letto che mi ha detto devo fare il letto io mi sono proposta e ho detto mamma ti aiuto io perché io sono servizievole e quindi sto andando a dare una mano mia madre mamma è vero conferma questa è la camera di letto di letto guardate qui mio padre che artista ha fatto questo bel design moderno design anzi se mi interessa nel tempo libero bello però guarda come fa bello nel video è bello è bello ma non sai come va bello bene allora io vado a dare una mano mamma stai facendo già allora arriva a darti una mano allora abbiamo fatto il letto guardate qua che bellezza sono ma come sono stata ma dire bene benissimo vedete l'abbè che mi appoggiavo la stanchezza perché vedete qua c'è il comò tutto ben ordinato l'ordinato vedete ciao ciao qui c'è betti che già betti dica ciao bettina e vedete che bellezza questo bell'alberello la mimosa buongiorno siamo al giorno dopo io non ho più registrato allora bambini scuola stamattina non ho fatto in tempo a farvi salutare i bambini ma andavo proprio di fretta ho fatto tardi ho fatto la tinta non so se si vede nero blu me l'ha regalata mamma in effetti no con questa luce morta non si vede però mi ha coperto tutti i capelli con questo bianco sotto in realtà bianca non solo non si vede sempre così sono sempre io faccia palloncino sto scendendo aspettate eccomi qua forse qui si vede meglio con la luce dicevo tutte le mani blu pure l'altra e mercoledì vado invece a fare le unghie dopo tanto tempo finalmente ho deciso di rifarmi le unghie ho scelto di farne una leopardata vediamo come viene un estetista nuova e sono troppo contenta quindi oggi capelli mercoledì unghia noi ci diamo un po una sistemata eccomi qua oggi non ho proprio registrato abbiamo fatto il pranzo con i bambini elisabetta ora sto andando a lezioni di zoom ogni intanto anche io vado a fare queste lezioni sicuramente da risate e loro dei nonni buongiorno siamo al terzo giorno di blog consecutivo perché riesco a bloggare solo quando sono ascensore buongiorno buongiorno dove vai all'asilo ciao allora eccomi qua sono a casa i capelli lavati ieri e abbiamo lasciato brando all'asilo adesso emma deve scrivere la letterina a babbo natale che la dobbiamo mettere sull'albero così lui poi se la viene a prendere e questo è il tipo dove la devi mettere e la dobbiamo mettere allora si vedi così la scriviamo siamo pronti allora caro con la c allora caro a r o è impossibile te la sai fare la r quella con la zampetta allora o non si vede niente vabbè si lascia lo spazietto babbo con la b lascia lo spazietto di più scrivi più piccola mamma devi lasciare lo spazietto amore lasciato fammi vedere insomma vabbè babbo così sembra tutta una una parola invece tu le devi distanziare le parole babbo a due b b b o certo doppia b la o babbo caro babbo lascia lo spazietto natale lascia lo spazietto n qui va benissimo si n n così sì quella lì che se fare tu n n a bravissima t a l è più vicine alle lettere le devi fare però eh vabbè ma l l l è facilissima mai due sono due zampette così è così te la faccio vedere guarda così è così e la e di emma vicino all'ala devi fare la l sì normale tutta una parola e la e la e cosa è scritto cosa è scritto no cosa è scritto leggi c a r o caro babbo natale bravissima ora proseguiamo e poi ve la facciamo vedere allora letterina fatta sta qui finita l'abbiamo chiusa poi abbiamo fatto dei dolcetti abbiamo lasciato il muffin a babbo natale dobbiamo comprare carote per le renne e abbiamo fatto anche qualche dolcettino e trovate il video completo di questi dolcettini su tik tok e nulla io con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video aspettiamo che babbo natale viene a mangiare il dolcetto e adesso devo mettere anche le carote perché mi ha raccomandato mamma metti le carote io vi saluto vi do un bacio e al prossimo video ciao ciao